Il nostro viaggio nell'equilibrio Tocca oggi il tema, anch'esso paradossale, della santa superficialità Della santa disattenzione Del non dover essere costritti a essere sempre analitici Così precisi, così puntuali sulle cose Perché dobbiamo affrontare questo argomento? Allora ricordiamo velocemente che cosa abbiamo fatto fin qui Noi abbiamo introdotto l'argomento, l'argomento dell'equilibrio L'argomento di essere equidistanti, cattolici nel vero senso del termine Cioè universali Questa cosa che noi abbiamo nella nostra fede Questo aspetto paradossale della nostra fede Cristo è vero Dio, è vero uomo Le due cose non si escludono in questa sintesi grandiosa Che supera la nostra capacità razionale Che è la meraviglia di un Dio che è Dio Eppure ha a che fare con noi che siamo quanto di più debole, fragile e estraneo alla divinità E così tutto quello che noi viviamo nella fede è sempre portatore di questo paradosso Questa dimensione di inclusività degli estremi opposti Per cui ogni uomo veramente si può salvare In qualunque condizione, in qualunque luogo, in qualunque storia Può essere redento dal Signore Gesù Cristo Certo però questo richiede anche un assetto L'assetto salvifico E questo assetto salvifico richiede distacco, abbiamo detto Richiede autoironia Cioè il distacco è il distacco anche dalla propria importanza Dal sapersi relativizzare E anche implica l'atto dell'astinenza Di non essere attaccati a qualche cosa Sapersi astenere da atteggiamenti, da fissazioni, da oggetti Ecco, e richiede di stare al cospetto di Dio che ci relativizza nella preghiera Quindi c'è bisogno di essere pigri Cioè non lasciarsi prendere da cose di cui dobbiamo imparare A essere trasandati, non tenaci E richiede santa avarizia Cioè il senso della vera ricchezza Cioè ci sono cose a cui bisogna tenere E altre cose a cui non c'è nessun bisogno di essere attaccati E che possiamo perdere Di cui possiamo tranquillamente fare a meno Ed ecco che arriviamo al tema di oggi Che è il tema della leggerezza E di una forma di semplicità ingenua Che fa saltare i nervi agli ansiosi Un fidarsi di Dio che non chiede disclaimer E non legge le clausole Siamo capaci di metterle in atto Quando andiamo in fissa per un idolo Ma con Dio diventiamo circospetti E chiediamo verifiche Mentre ci vorrebbe quello slancio Che spesso si ha all'inizio dell'esperienza di fede Quella forma di ingenuità Quella forma di spensieratezza In cui ci si lancia Magari all'inizio della propria fede E magari non ci si rende conto Di rischi che un po' si corrono C'è questa forma quasi di spericolatezza Per cui non si sta a analizzare tutto Con una precisione esagerata Ecco, è uno slancio quasi ingenuo Per poter andare avanti nella vita Anche quella spirituale C'è bisogno di questa leggerezza C'è bisogno di non essere attenti In maniera malata sulle cose Gli scrupoli non sono mai una via sana Nella vita spirituale San Filippo Neri diceva Scrupoli e malinconia lontano da casa mia Ed era un detto saggio Questa cosa di stare un po' troppo attenti A tutto quello che si fa A tutto quello che si produce Cioè avere quella santa leggerezza Ripetiamo Questa forma meno ottusa Meno angosciata di vivere le cose Richiede una forma anche di morbidezza Di flessibilità Che è sana ed è difficile descrivere Gli studiosi di neuroplasticità Dicono che coloro che hanno una tendenza Un po' più rossolana Senza un'analisi troppo pedante dei fatti Invecchiano meglio Sono più sereni Certo, magari chi è tendente A voler tutto chiaro e distinto A chi ha una tendenza cartesiana Soffre un po' accanto a queste persone Ma tante volte anche per crescere Ci vuole di andare avanti Di non stare a riguardare tutto A ricontrollare tutto Non tornare indietro A ripensare tutte le cose fatte Non fatte Tutte le cose non chiarite Tutte quelle pedanterie Che per avidità cognitiva Noi possiamo mettere in atto Ci sono cose da non scandagliare Approfondimenti inutili C'è il mondo dell'irrisolvibile Che non può diventare Un peso insostenibile Sopra la nostra coscienza Ci sono cose oggettivamente Irrisolvibili Ci sono problemi che è inutile Accanirsi a voler Per forza chiarire E bisogna sapere andare avanti Tirare a campare Ecco, questo non risulti Semplicemente un inno Alla superficialità Ma un inno All'umiltà Cioè noi dobbiamo Sapere accettare Che tante cose Stanno lì E noi non sappiamo Come risolverle Ed è inutile Stare a risolverle Abbiamo per esempio Le trappole Dell'irrisolto passato Tutti quanti Nell'infanzia Hanno qualcosa di irrisolto Tutti quanti Nella storia Hanno qualcosa di Doloroso Di non chiarito E non è sempre La cosa migliore Mettersi ad analizzare A chiarire A rinvangare E a Possedere a tutti i costi Una chiarezza Su qualche cosa Che Molto spesso Nella vita Certi ostacoli Non vanno saltati Non vanno risolti Vanno evitati Bisogna sapere andare Per un'altra strada Certi dubbi Non vanno risolti Vanno odiati Per se stessi Sono una trappola A se stessi Certe domande Non devono trovare risposta Non è detto Che bisogna per forza Chiarire Ogni cosa Che non ci risulta chiara Perché c'è Una dimensione Della nostra vita Che resta Comunque Inspiegabile C'è qualcosa di noi Che non sappiamo E c'è un enigma Anche nella nostra Vita Nella nostra coscienza Nella nostra realtà C'è qualcosa In cui bisogna fidarsi Andare avanti Voltare pagina Non restare sempre A scrivere lì Sulla stessa pagina Tante volte c'è gente Che non riesce a cambiare A fare un upgrade Nella propria esistenza E resta lì Incastrato Dentro una paura Dentro una Questione Dentro un dubbio E questo non è sano Non è buono Bisogna sapersi riscattare Da tutto questo C'è da andare avanti C'è da andare oltre Se I chiamati Nella storia Avessero analizzato Tutte le possibilità Prima di partire Non avrebbero risposto Con quel subito Che compare Nelle scene Nelle scene di vocazione Pensiamo Simone e Andrea Vengono chiamati E subito Lasciano le reti E la barca Beh Quell'atto È un atto Sotto certi punti di vista Che può essere giudicato Irresponsabile E così è successo Tante volte Nel ministero Di accompagnare le vocazioni Di vedere Qualcuno Che viene giudicato Irresponsabile Da qualcun altro Invece sta entrando Nella gloria Della propria vita Sta entrando Nella grandezza Della propria esistenza Ci vuole Questa forma Di leggerezza Questa forma Di superficialità Per non stare Sempre A incatenarsi Ai dati Bassi Della vita Agli aspetti Pedestri Della vita Ecco Tante volte Dobbiamo saper volare Saper andare oltre Non senza Quel senso Della realtà Che è sempre necessario Per carità Che è sempre necessario Saper considerare Ma Noi non stiamo Parlando di un aspetto Per se stesso Come un aspetto Che spiega tutte le cose È un ciclo di trasmissioni Questo Abbiamo detto tante altre cose Ci vuole l'autoironia Ci vuole l'astinenza Ci vuole la preghiera Ci vuole La santa astensione Dalle cose Da cui bisogna diventare pigri E Il santo senso Di ciò che non va compromesso Ecco E allora a quel punto Compare una Necessità di leggere Di saper vivere Andare oltre Un esempio tipico Che mi è stato fatto Da un cameriere Una volta Era questo Se guardo I piatti Che porto Casco Se non guardo I piatti Ma guardo davanti a me Mentre sto portando Appunto Delle pietanze Delle pietanze Ulteriori torture Attraverso la ricerca È molto più utile È molto più utile la mano Della bilancia La bilancia Con la sua precisione Darà Una cucina fredda Mentre certe volte A mano A occhio Si fa molto meglio Se uno non ha quella mano Non ha quell'occhio Non cucina bene Ecco Questo discorso Potrebbe sembrare Un discorso Un po' fittissimo Un po' psicologico E basta Vediamolo un pochino Nei Vangeli Quando è che Gesù Cristo Applica Questa disattenzione santa Ecco C'è un passo Nel capitolo 9 Del Vangelo di Luca Che è un passo Piuttosto importante È il momento In cui Gesù Si rivolge Verso Gerusalemme Siamo al capitolo 9 Appunto Al versetto 51 Leggiamo il testo Mentre stavano Compiendosi i giorni In cui sarebbe stato Tolto dal mondo Si diresse decisamente Verso Gerusalemme E mandò avanti Dei messaggeri Questi si incamminarono Ed entrarono In un villaggio Di Samaritani Per fare i preparativi Per lui Ma essi non vollero Riceverlo Perché era diretto Verso Gerusalemme Quando videro ciò I discepoli Giacomo e Giovanni Dissero Signore Vuoi che diciamo Che scenda un fuoco Dal cielo E li consumi Ma Gesù si voltò E li rimproverò E si avviarono Verso un altro villaggio Ecco Questa è la prima parte Poi leggeremo Anche il resto Di questo testo Perché questa è una premessa A una serie di incontri Che farà Gesù Allora Gesù sta andando Verso Gerusalemme In maniera decisa In maniera risoluta E Manda avanti Dei messaggeri Per preparare le sue visite Nei villaggi Ecco E si imbattono In un villaggio Di Samaritani Fra Samaritani Ed ebrei Non corre buon sangue Anche tutt'oggi C'è questa tensione E questi Non vogliono Accoglierlo I discepoli Di Gesù Tutti compresi Della sua importanza Per difendere l'onore Vogliono pregare Perché scenda un fuoco Dal cielo E li consumi Cioè Un atteggiamento Vendicativo Violento Contrappositivo Gesù si volta E li rimprovera Cioè Non gliene importa Proprio niente Di essere Rifiutato Da questi Samaritani Va oltre Ma che importanza Vuoi dare a queste cose Quante polemiche Inutili si fanno Nella vita Quante volte C'è chi Prende un atteggiamento Oppositivo E sta lì a chiosare A Annogliare Chi lo circonda Per Chiarire Per puntualizzare Come abbiamo già detto Ecco Gesù Rimprovera Giacomo e Giovanni Che poi chiamerà Figli del Tuono Per questa loro Ira Per questa loro Tendenza Vendicativa Ecco Vuoi che diciamo Che scenda un fuoco Dal cielo E li consumi E' interessante Vuoi che diciamo In un altro testo Parallero Dicono Vuoi che preghiamo Cioè Loro pregano meglio di Gesù Cioè sanno meglio di Gesù Quello che deve essere fatto Quello che deve essere posto in atto Non quadra molto questo discorso E Gesù Li rimprovera E vanno altrove E allora continuiamo a leggere Questo testo Per capire questa Santa libertà Dai dettagli Dalle secondarietà Che in Gesù si manifesta Mentre andavano per la strada Abbiamo ripreso dal versetto 57 Un tale gli disse Ti seguirò Dovunque tu vada Gesù rispose Le volpi Hanno le loro tane Gli uccelli del cielo I loro nidi Ma il figlio dell'uomo Non ha dove posare il capo Ad un altro disse Seguimi E costui rispose Signore Concedimi di andare A seppellire prima Mio padre Gesù replicò Lascia che i morti Seppelliscano i loro morti Tu va E annuncia il regno di Dio Un altro disse Ti seguirò signore Ma prima lascia Che io mi congedi Da quelle di casa Ma Gesù gli rispose Nessuno Che ha messo mano All'aratro E poi si volge indietro E' adatto Per il regno di Dio Ecco Questi sono tre casi In cui sembra Che Gesù Non sappia Accogliere Le istanze Che gli vengono Sottoposte Da questi tre signori Che lo incrociano Uno dice Ti seguirò Dovunque tu vada E Gesù puntualizza Questa volta È un pochino Puntualizzante Le volpi hanno Le loro tane E gli uccelli Le loro niti Ma dove ti credi Che vado io Ma cosa pensi Non vado a cercare Una tana o un nido Dovunque tu vada Non c'è uno ovunque Io sono uno Che non ha dove posare il capo Non sono uno Che sta tutto il tempo A farsi una nicchia A tanificare qua e là Io non ho qui Una sede permanente Io sto andando Verso il padre Io sto andando Verso qualcosa Di più grande Il regno di Cieli Infatti questo si concretizza Nel caso successivo Lui chiama Uno dei Dei uomini Che incontra E costui risponde Concedimi di andare A seppellire Prima mio padre Dobbiamo un po' capire Perché Gesù Da questa risposta Lascia che i morti Seppelliscono I loro morti Dubai Non sia il regno di Dio Che risposta dura Strana E anche un pochino Inspiegabile Sotto il punto di vista Del fatto che La sepoltura Dei defunti Era un'opera Sacrosanta Anche noi la teniamo Come una delle sette opere Di misericordia corporale Dalla sepoltura Dei defunti Certamente È una pietà Un amore Una cura Verso il corpo Di coloro Che sono defunti È un amore Verso i propri cari Ecco Questo ha il padre Da seppellire Il punto è capire Esattamente Cosa dice questo uomo Gesù gli dice Seguimi Lui dice Lasciami prima Seppellire mio padre C'è qualcosa Che viene prima Della chiamata Ecco Di là del fatto Che è comprensibile Però la sorpresa È che c'è qualcosa Che può venire Prima della chiamata Prima dell'appello Di Dio Nella fattispecie però Questo uomo Dice Concedimi di andare A seppellire prima Mio padre Cioè Non è sicuro Che il padre Sia morto Forse il padre È semplicemente anziano Forse è semplicemente Vecchio Forse semplicemente Deve arrivare Alla morte Cioè Io prima Dovrò seppellire Mio padre Poi potrò Seguirti Cioè C'è una cosa Che devo chiudere Prima E questo rappresenta Tutto il contenzioso Col paterno Tutte quelle cose Della nostra infanzia Che dobbiamo prima Mettere a posto Prima Seppellire Chiudere Questi contenziosi Che non finiscono mai Non si finisce mai Di aggiustare La propria infanzia C'è sempre qualcosa Che resta irrisolta Non si può mai finire Di risolvere Gli enigmi Della propria vita Restano lì Le ingiustizie subite Il male vissuto Le solitudini patite Tutte queste sono Un capitale Da usare in altra maniera Non da risolvere Non è vero Che bisogna a tutti i costi Seguire tutte le linee Della nostra Irrisoluzione Certe cose vanno lasciate Lì dove stanno Certe cose Non vanno Aggiustate Vanno abbandonate Ecco Lascia che i morti Seppelliscono i morti Cioè c'è qualcosa Che è un evento Di morte Che chiamerà Coloro che sono Collegati a quella morte Che sono in quel Rimorso In quel rimpianto In quella irrisoluzione E vivono così Non si può vivere Di rimorsi Non si può vivere Di sensi di colpa Non si può vivere Torturandosi Per quel che è successo Bisogna andare Verso il regno di Dio In certo senso Gesù dice A questo uomo Tuo padre Sta davanti a te Non sta dietro di te Lo rincontrerai Nel regno di Dio È una cosa Verso cui vai Non è una cosa Da cui devi saper uscire Questo perfezionismo Psicologico Che pervade un po' La nostra cultura Per cui bisogna essere Perfetti Risolti Non si sa come Arrivare ad una Statura Di libertà Che poi alla fin fine Non è libertà Ma è narcisismo Non è risoluzione Ma perfezionismo Ma ricerca Semplicemente Del proprio ego Ecco Non possiamo andare A seppellire il padre Se Cristo ci tocca Il cuore Bisogna entrare In quello che ci sta Invitando a fare Andare a non sia Il regno di Dio Andare verso la vita E non stare sempre Verso la morte E non stare con le mani Sull'aratro E il volto indietro Arare Non guardando Ciò che stiamo facendo E allora Uno si sposa Per risolvere i problemi Della propria infanzia Un altro Cambia città Perché deve Scappare da qualcosa Che non ha risolto E via dicendo E non è assolutamente saggio Vivere così La vita richiede Di andare verso La meta La vita richiede Di andare verso la luce La vita richiede Di saper Vivere secondo la salvezza E la salvezza E la salvezza Ha una grammatica Diversa Dalla realtà Dell'irrisolto L'irrisolto Per sua natura È una sabbia mobile In cui ci si perde Ci sono discorsi Da non fare Questioni Da non affrontare Problemi Da lasciare Lì dove stanno Non si può Passare la vita A pensare Alla spazzatura È tipico Delle persone malate Di essere Accumulatori seriali Vediamo qualche Povero accattone Povero disturbato mentale Che non riesce A buttare le cose Molto spesso Ci si trova Nelle case Di coloro Che non buttano niente Gli accumulatori seriali Quelli che non si liberano Mai del passato Che non riescono mai A staccarsi Dalle cose Dal valore affettivo A un momento Bisogna Saper entrare In un'arte Dell'ordine E la cosa Che più aiuta Nel momento In cui si mette A posto Una stanza È la spazzatura Liberarsi di cose Ci sono tante cose Che teniamo lì Non si sa mai Per un'ipotesi Che potrebbero servire Forse perché Abbiamo Dei retaggi Delle Tasse Antiche Da pagare Bisogna smettere Di pagare La tassa Sull'infanzia Non c'è bisogno Che il governo Ce la tolga Ce la possiamo togliere Da soli Perché normalmente Ce la imponiamo Da soli Dobbiamo smettere Di vivere Secondo le aspettative Che ci sono piovute Addosso nell'infanzia Da parte degli altri Dei genitori Della famiglia Dell'ambiente Della società No Possiamo scontentare Questa infanzia Possiamo Mandare Come dire All'ammasso Tutta quella parte Del nostro cervello Che Sta tornando Sempre sui suoi giri Che sta tornando Sul suo Rivendicare Qualcosa Che gli è mancato Qualcosa Che non è andato bene Non bisogna Aggiustare tutto Bisogna Saper andare avanti Tante volte Bisogna Saper andare Evitando Di Perdersi Dentro i burroni Della propria mente Della propria mente Dentro Le irrisoluzioni Del proprio essere Ecco Questo è Un altro passo Che abbiamo compiuto In questa trasmissione E che però È tanto necessario Come atteggiamento È una cosa sana Per il cervello Come accennavo Dicono gli studiosi Della neuroplasticità Bisogna essere plastici Flessibili Saper andare oltre Non fissarsi Rigidamente A Puntualizzare Come abbiamo abbondantemente Descritto In questa trasmissione Ecco Auguro agli ascoltatori Un atteggiamento leggero Un atteggiamento Più libero Rispetto a Tanta Pesatutezza Che tante volte Noi sappiamo produrre Ci sta Una Apertura Alla vita Un'apertura al bene Un'apertura anche A lanciarsi Fare le cose Uscire Mettersi in cammino Andare Altrimenti Se vogliamo chiarire tutto Calcolare tutto Misurare tutto Proteggere tutto Staremo bloccati Fermi Tante volte La stasi In cui si sta nella vita Non corrisponde A un'assenza di forza Ma a una contrapposizione Di forze uguali E contrarie Che ci rendono fermi Da una parte La chiamata alla vita E dall'altra La chiamata alla morte Cioè la chiamata A occuparsi delle cose passate Ormai morte Ormai sepolte Ormai da abbandonare Di cui liberarsi Ormai da abbandonare 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 Ormai da abbandonare